Cioè, da quando stiamo insieme, no? È mai capitato che, per esempio, cioè hai fatto l'amore con qualcuno? Sì. Perché non parli? Niente. Eh, è il caggiatrice. Sei geloso? No. Scusi, Marta, come si chiama chi l'ha inventato la pernici lì? Flemming. Flemming. C'è qualcosa che mi lega con forza a Massimo Troisi, al di là delle mie origini familiari partenopee, al di là della mia passione per il teatro di Pirandello e di Edoardo di Filippo. Forse è quello che gli studiosi chiamano il dramma del vedersi vivere, che in Pirandello era spesso angoscia, ma che, nella versione napoletana, si trasforma in sottile ironia e rassegnazione positiva in Edoardo e in comicità dirompente in Troisi. La matrice è sempre la stessa, ma l'output, come si dice oggi, molto diverso e affonda le radici in quella consapevolezza malinconica dell'assistere alla propria vita, con la visione distaccata ed esterra di chi è abituato a riflettere e all'introspezione che così spesso riesce ad ottenere. Così si spiega il mio personale forte feeling con la comicità tagliente di Troisi che graffia appena i più distratti che guariscono con una risata ma che incide in modo profondo nelle carni e nell'anima per chi ama cogliere gli aspetti più profondi della vita. Troisi viene da una famiglia di sei figli che abitava a San Giorgio a Cremano. Un solo ripengo in casa, padre ferroviere, facile capire che certo la famiglia non navigava nel loro e quelle difficoltà, quell'ambiente così duro si ritrovano poi in mille dei suoi passaggi. Ma l'essere in primo piano era il suo destino. Era proprio lui il neonato testimonial nel 1953 della Mellin sulle confezioni e negli spot del latte in polvere. Per allora una novità assoluta come nuova ed inattesa direi speciale fu tutta la sua interpretazione della carriera attoriale. Le difficoltà per Massimo però non si limitarono a quanto detto da bambino. Fu colpito da febbre aromatica, sviluppò una grave degenerazione della valvola mitrale complicata dallo scompenso cardiaco che poi gli sarà fatale e condizionerà anche la sua adolescenza abituando alla scanzonata introspezione delle vicende della vita lette sempre con raro, forse unico spirito umoristico. Ancora adolescente vinse un premio di poesia ispirata alla figura di Pierpaolo Pasolini. La sua poi fu un'ascesa continua sino alla consacrazione televisiva prima e poi nel 1981, con il ricomincio da tre, quella naturalizza, quelle espressioni del viso che parlavano in qualsiasi testo resero alcune sue interpretazioni leggendarie e alcuni concetti ripresi poi nel linguaggio comune. Non può dimenticare la sua lettura personalissima del comune sogno della guerra a causa dell'insonnia aveva sempre armi che non funzionavano bene perché arrivava tardi o un fiorino al passaggio del confine una feroce satira della burocrazia di fronte alla quale nulla può il cittadino oppure lo sforzo del ragazzo napoletano di apparire moderno e non geloso di fronte alla confessione di un tradimento o l'annuncio del ricordati che devi mochire infine la sua lettura amara e rassegnata dell'amore per una beatrice nel postino. Loisi morì a soli 41 anni il 4 giugno del 1994 esattamente 30 anni fa ad Ostia la causa fu un attacco cardiaco il giorno prima aveva terminato la sua ultima pellicola il postino per la quale sarebbe stato candidato ai premi Oscar come miglior attore e per la miglior sceneggiatura non originale nel 96 resterà un unicum nel panorama teatrale e cinematografico nonostante il breve periodo di permanenza in quella vita che tanti ostacoli gli ha frapposto ma che siamo sicuri non avrà potuto fare a meno di sorridere anche lei ricordati che devi morire va bene ricordati che devi morire e se no ma mi lo segno proprio c'è una cosa ma mi blocco qua grazie a tutti grazie a tutti